Sono una moglie e una madre come tante, dedita alla cura della famiglia, ma con una particolarità in più. Ho tre figli con DSA, disturbi specifici dell'apprendimento, comunemente detta dislessia. E uno dei passi di una lunga lettera giunta in redazione, firmata da una mamma a coraggio, Sofia Donadio, è stata lei a lottare per il diritto allo studio dei suoi ragazzi, tre ragazzi normalissimi con un'ottima intelligenza, così li descrive. Ma questo, sottolinea, non è servito ad evitare il calvario. Sui banchi di scuola la difficoltà nella lettura è stata scambiata per sbogliatezza. Da quel momento la vita della mia famiglia è stata stravolta. È iniziata, scrive, una salita ripida, dolorosa, sfiancante, fatta di visite specialistiche, test neuropsichiatrici, certificazioni da produrre periodicamente a scuola. Per le persone con DSA, aggiunge, esiste la legge, la numero 170 del 2010, modificata e integrata. Ebbene, di questa legge nessuno, nelle scuole frequentate dei miei figli, ha mai tenuto conto, così come non è stato mai tenuto in considerazione il piano didattico personalizzato. Risultato, la scuola non ha fatto un bel niente e la famiglia si è dovuta necessariamente sostituire ad essa. Un quotidiano difficile, lei che studia con i suoi ragazzi, loro ottengono il diploma, si iscrivono all'università, lei continua a seguirli, a studiare con loro. Io sono certa, conclude, che i miei ragazzi avranno un posto nel mondo, ma so anche che dovranno combattere ancora e ancora e ancora, perché l'ignoranza e la negazione nei confronti di una problematica tanto diffusa quanto ignorata come la dislessia è ancora troppo grande. La mia guerra non è finita, scrive infine. Continuerò a combattere per i miei figli e per tutte quelle persone che vivono la mia stessa situazione.